Beh va dai piccio! Vai insierisci! Vai Gorgione insierisci! Ce l'ha proprio finita! ... Guardate l'espressione di dolore! Ma non ne lo so! ... Notate come il cordone picchia il piscitello? Il cordone picchia il piscitello! Fino tra titani! E' una figlia tra titani! Che stanno facendo? Che stanno facendo? Che stanno facendo? Guarda, di Gennettino! Cordone picchia il piscitello e il cordone picchia il piscitello! Ora si trasforma in una scena di sesso! Guardiamo Gennettino che gode, guardando i due! Ragazzi, ma di questa lite titanica cosa ne pensate, Marco? Vincerà sicuramente il piscitello! Ah, ok! Perfetto! Mirko, cosa ne pensi tu di questo scontro tra titani? Sembra uno sconto tra finocchi pure! Piscitello glielo impicchiera così forte! Continua, no, opposto! Perfetto, per quello che riguarda me, io penso che questa sfida epica tra i due, cordone picchitello, si concluderà nella morte di entrambo, entrambo, entrambo i discutatori! Ragazzi, la sfida si protrae da 2 minuti e 15 secondi! Non è iniziata! Non è iniziata! Il canzello non è ancora davanti a lui, dice cordone! Piscitello si piega! Non c'è, vissi! Piscitello si piega al volere del cordone! Non c'è, vissi! Cordone c'è russo! Lo scontratico! C'è russetto al muro cordone! Eeeeeee! Dai, vedi Misco! Già russo! 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 Già ri***! Già russo! Già ti dice!